Un saluto al pubblico, ben trovati allo spazio informativo di Coldiretti, ancora una volta abbiamo il piacere di ospitare i nostri studi il Presidente regionale e provinciale per in periodi Coldiretti, benvenuto Boeri, grazie per essere ancora qui con noi. Un altro argomento importante da affrontare oggi, PSR, piano di sviluppo rurale, se ne è parlato tanto nell'anno passato, se ne continua a parlare giustamente perché insomma 313 milioni di euro di budget vogliono dire il futuro delle aziende agricole, il presente, il futuro delle aziende agricole del territorio, avere problemi su questi fronti è pericolosissimo. Si è conosco qualcosa, sta andando meglio, questo 2019 è partito un pochino meglio? Innanzitutto vorrei fare un passo indietro al 2018, il 31-12-2018 scadeva al termine della redicontazione per cui la comunità europea dà dei parametri precisi sul raggiungimento di quelli che sono degli obiettivi minimi di spesa. Fortunatamente siamo riusciti, seppur nelle ultime fasi, proprio nel mese di dicembre, a raggiungere l'obiettivo minimo. Questo ha consentito di non dover incorrere a una penalizzazione dal punto di vista economico e quindi da un disimpegno di circa 15 milioni di euro sul monte che tu prima facevi riferimento. Quindi questo è da cogliere come un elemento positivo e che quindi ha dato la possibilità a fine anno a tante imprese, tanti imprenditori di veder ricevuto quello che è il loro contributo. Per domande che purtroppo magari avevano fatto parecchio tempo prima. Sul 2019 noi come Coldiretti abbiamo mandato una sorta di manifesto dove ci rendiamo disponibili innanzitutto a Regione Liguria per cercare di essere d'aiuto a smaltire le pratiche, a essere più celeri, a essere più sinergici con gli spettorati per quanto riguarda la compilazione di pratiche, le istruttorie e tutto quanto ci viene richiesto. Dall'altra parte siamo vigili e attenti perché non dobbiamo più correre il rischio di veder passare troppo tempo per dare delle risposte alle nostre imprese, perché a fine anno 2019 ci sarà un'altra quota da raggiungere. Il problema adesso è dare via a tutte le istruttorie e far ricevere alle aziende che hanno fatto domanda il nulla osta. Con il nulla osta in mano i nostri imprenditori avranno la possibilità di cominciare i loro investimenti, di poter spendere e di poter contare e Regione Liguria deve seguirli passo passo per talvolta dove è richiesto dare un avanzamento lavori, dare degli anticipi e dove è richiesto il saldo pagare prontamente, perché non abbiamo più tempo da perdere sicuramente, di tempo da perdere ce n'è stato veramente tanto, troppo. Il PSR è uno strumento imprescindibile per le nostre aziende e soprattutto per quanto riguarda il settore floricolo, perché per stare al passo con tutti i mercati esteri dove la competitività è all'ordine del giorno, occorrono investimenti, per fare gli investimenti occorrono soldi e sappiamo che le nostre aziende, medio, piccole, tante volte a conduzione familiare, non hanno delle disponibilità di spesa importanti, per cui il PSR è uno strumento fondamentale per poter stare al passo con l'innovazione, con i mercati mondiali. Se non vengono date, rispettate nei termini previsti le tempistiche di cui le aziende hanno bisogno, si corre veramente il rischio che ci sia una disincentivazione ad utilizzare questo mezzo, che è un qualcosa di deleterio e che non bisogna assolutamente far passare come messaggio alla nostra azienda. In più, un altro impegno è stato dato alle zone montane dell'entroterra, si dice tanto valorizziamo l'entroterra Ligure, aiutiamo chi svolge una sorta di agricoltura eroica, perché opera su territori sicuramente molto difficili. Benissimo, stiamo dietro particolarmente alle domande di sostegno a superficie, a chi fa il biologico, perché sono tante volte questi sostegni vanno ad integrare in gran parte quello che è il reddito dell'azienda, per cui se si saltano una, due, tre annualità c'è il forte rischio che queste aziende perdano di competitività e non riescano a stare aperte, a stare sul territorio e a svolgere quel compito fondamentale di conservazione del territorio, di mantenimento idrogeologico, di pulizia delle nostre aree montane, che invece è quello che i nostri agricoltori fanno per tutti, fanno per avere loro un ritorno economico, fanno per passione, ma poi tutta la società può goderne e beneficiarne. Molta grazie al Presidente di Coldiretti Liguria e Coldiretti Provincia d'Imperia, Gianluca Boeri. Arrivederci a lei e naturalmente un saluto e un arrivederci anche al nostro gruppo. Buonasera a tutti.